oh sì sì così va bene cazzo fallo di nuovo fallo ancora ricorda che quando saluti il fior molti ti chiederanno che fai e ti verrà da nasconderti perché ti hanno scoperto vorresti picchiarli e reagire con un pugno ma non puoi vero io gliene darei uno così sotto il mento quindi non lo fare mai ma non nasconderti e saluta sempre comunque il fior e di che stai chiamando il cameriere ok ehi ehi cameriere capito ancora e ancora che così non ti scoprono ok fallo convinto ancora così a sigla e lama e rai che bravo così sigla